Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti quanti. Che cosa andremo a fare oggi? Faremo una sfida che mi ha riscattato il buon biochillerone. C'è anche Mirko, quindi ve l'ho riportato sul canale. Siate contenti e dovete farmi una statua per avermelo riportato qui a giocare con voi. Faremo una Five Door Challenge. Ogni cinque round apriremo una porta. Ma su che mappa? Dici un po'? The Rise di Bo1. Oh, nonna di Dio, ragazzi. Devi sapere, Giambu, che è stata fatta su Kino e su Five, ma mai sulle altre mappe di Bo1. Uh, quindi potremmo fare un primo veramente tentativo clamoroso al mondo. Vedremo dove arriveremo. Dopo aver superato i soliti problemi di connessione. 28 minuti e 55 secondi di live. Bello, bello per entrare. E riuscire ad entrare nella lobby. Ma no, Giambu, è un trattenimento alternativo. Esatto, esatto. Sì, ragazzi, non ve la voglio guffare io, ma la sta dicendo Broccola. Dice, secondo me, crasha tutto. Da finire il quinto round, eh, però. No, secondo me era l'inizio, eh. No, no. Non sono molto chiaro. Raga, secondo voi, inizio o fine il quinto round? Io ho sempre visto all'inizio, eh. Perché se no è un sesto. Se no mi siamo un po' a un sesto inoltrato. Facciamo cinque e mezzo? No, a me sembrava all'inizio, Fabio, eh. Anche secondo me. Era ogni cinque, era poi vamo. E infatti siamo al quinto. In effetti, sì, no, perché poi si cala. Io aprirei. Sì, dai, apriamo. Tipo, io eravamo andati con la scuola, tipo, non so, far cosa al teatro. E davanti al teatro un ragazzo mi ha detto, Oddio, Tom, mi resta. Oh. Va bene, ci sta, ci sta, ci sta. È normale fare questa challenge qui? Io voglio giocare rilassato. No, che facevo tutte le rilassazioni. Ah, sì. Andavo a 15 fps, sì. Dai, dai, dai. Raga, mi raccomando, eh, porca di quella miseria. Stream ogni sera. Uno! Mi ha fatto un colpo! Jambu, non bisogna distrarsi. Eh, sì, hai ragione. Ok, ti rianimo io, sei pronto? Rianimazioni pro. Vai, vai, vai! È impossibile, raga. È impossibile. Siete granati, siete granati. Raga? Andiamoci in atto. Raffa. Però la barra era piena. Jambu, la barra era piena. Io t'avevo rianimato, lo giuro, eh. Sì, gira, 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 gira. Va bene, mi sono distratto io e finito tutto. First restart, first restart. Restart, 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 restart. Oh, spacco tutto. Mi sa che non si può fare. No, il server si è scollegato. È un problema grosso questo. Non dimmi che ci siamo sgruppati. Sì, il server si è scollegato. No, ci siamo sgruppati. Il server si è scollegato anche a me. Ci siamo sgruppati. Vai, altra mezz'ora per il tuo... Ci siamo sgruppati. Line è accaduta. Cambia mappa. Raga, impazzisco. Adesso bisogna stare concentrati perché se no stiamo concentrati qui rischiamo davvero... Meno a 20 round ci arriviamo. Ok, round 5. Gheghe si apre la porta o si tiene la porta. Aguera! Di Monti di Belluno. Comunque siamo primi nel mondo, ragazzi. Incredibile. Dici in stream? Eh sì, chi è che gioca... Oh, mio Dio. Chi gioca a zombie in questo momento? A Black Ops 1 non penso ci sia ancora gente che giochi. Vabbè, un minimo... Un ottimo. Perché abbiamo fatto meno fatica questa volta con i cani? Eh... Forse perché ho guardato lo schermo invece di leggere la chat. Sono terra? Non è vero? Ok. C'è qualcosa che ci potrebbe aiutare? Oh... Bomba? Ok, sta chiesto. Ok. Ripariamo, ripariamo. Si fa, ragazzi. Dai, ecco se lo possiamo. Questa si fa, eh. Ma Dio caro, mi ha preso da dietro. No, 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 è lagato. È stato un colpo di laga. Non l'hai visto? È stato un colpo di laga. Avevano zombie da dietro. No, è colpo di là, mamma, vai. È colpo di laga. Ciao, ciao, ciao. E qui ne ho un altro di problema. Un problema molto grosso. Bambu, allora abbiamo... Ciao, bu. Io non so cosa fare. Vi lascio morire. Fate una cosa. Uno giri. Ma come giusto? Da porco, cani non sono più capaci di girare. Simo, inventati un giro, inventati un giro, inventati un giro. Dai che è il 9. Inventati un giro, inventati un giro. Bravo. Venite di qua, morite, io vi e Berto. Allargati, bravo, bravo, allargati. Sì, 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 sì. Vai. Ma come facciamo? Tu fai, continua a fare questo giro largo, eh. Ok, adesso potete venire di qua, se volete. Vai, tienilo di tu, Giambo. C'è questo io, tienilo tu. Va bene, sono morto, probabilmente. Vai, che è più rosso. Ah, buon salve, zombie. Allora, tutta posta. Oh, cavolo, zombie. Tutto bene, lei. Lei è il mio parco. No, raga. Ditemi che avete visto cosa ho fatto. Ce li ho tutti io, eh. No. No. Vai, 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 vai. Ce li ho tutti io, vi ammazzo se lo ritenete. Ah, buon salve, zombie. No, raga, clippate cosa ho fatto, clippate. Non puoi capire. Dai, stai così, continua a girare, continua a girare, te li uccidiamo noi. Perché sei venuto qua e mi hai smembrato il muccio e ti smembrano la testa? Posso spiegare, posso spiegare. Simo, facciamo il giro come abbiamo fatto prima e poi vai. Molto male, molto male, raga, molto male, raga. Oh mio Dio. Simo, Simo, perché lo fai? Comunque io ho un po' lato, secondo me. Simo. Ci sei? Mi senti? Simo, ti ammazzo. Aspetta. Giammi no! Giammi no! Giammi no! Raga, raga, cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Girate granate, girate granate. Girate granate a me. Ma perché sempre a me? Cioè dai, in che cazzo è? È fatta, è fatta, è fatta. Vaffanculo, raga. In questo mondo ho fatto tutto, tranne che essere utile. Non che ci apriamo? Sei un mostro, Giamma, ragazzi. Cosa ho creato il panico? Cosa ho creato il panico? Sì, no, dobbiamo andarci. Ma no, 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 sono morti. Criate granate, se no, sono morti. Ma scusate, scusate, com'è possibile che io... Allora, o sto laggando a manetta, o c'è qualcosa che non... Raga, dobbiamo uscire, dobbiamo uscire, dobbiamo uscire, sono morti. Perché siamo tutti qua, come gli stolti. Siamo morti. Raga, raga, no, non siamo morti, non siamo morti. La calma è... Eh, signori, sono morto. Lemmo, ovviamente... No, battere, battere, battere. Ok, sono uscito, sono uscito, sono uscito. Sono uscito. Eh sì. Eh, dobbiamo fare... Sono uscito. Sì, ma non possiamo fare tutto il run così. Run largo. Allora, fai così, tieni lì, tieni lì. Sì, 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 bravo. Contro il muro, contro il muro, contro il muro qua. Qui. Ok, provo ad andare lì, ma stai qua, Giamma, gira. Gira, provo ad andare lì. Ti sei portato i diritti a tutti te. Eh, ragazzi. Stanno ancora uscendo qua. La provata l'ho fatta una volta. Eeeh! No, eh. La provata l'ho fatta una volta, due volte. Sì, impossibile. Dai, un mucchio. È bello, è bello. Dai, ma ci abbiamo provato, è stato bello. No, ma che cazzo... Eh, ho capito adesso perché non abbiamo più fatto del Rise. Cioè, non rianimarvi, non rianimarvi, che se vieni qui mori. Ora, quindi... Però è forse... Oddio! O se è morto io la vinciamo, eh. Adesso, da qua non so come usciremo, zombie, però facciamo un giro magico. Inventati un giro. Sai, ricordarsi com'è fatta la mappa sarebbe una bella idea. Raga, ma... Sto tirando... Eh, la seconda porta, verrà, laggiù. No, raga, non ce la faccio. Va bene. Li ammazzo tutti? Non ammazzare i zoppi, i zombie, Jambu. Non ammazzare i zoppi. Non scarso com'è la merda, c'è niente da fare. Eh, no, ma gli zombie mi faranno ammazzare. Ecco. No, Jambu, devi girare. Eh, sono tu e con colpi. No! No, a me era impossibile, raga. Devi cambiarti il nome in zombie Jambu Best. Sì, sì, ho fatto un numero, ho fatto un numero che io ho proprio mosso il mouse così, ve lo giuro. Aspetta che vuoi... È una volta buona, dai. Questa è una volta buona. È una volta buona, dai. Se non è una volta buona me la vado su Worms. Ce la faranno i nostri eroi ad aprire la corrente? No, è più un... Ce la faranno i nostri eroi ad aprire la corrente? Lo scopriremo nel prossimo episodio. 3, 2, salutiamolo. Il server non è disponibile. No. No, tempo scaduto. Eh, beh, certo. Connexione di rete non rilevata. È strano. Eh? Vabbè, io... Eh? Eh? Concesso. No! Eh, ma no, non l'ho visto, non l'ho sentito arrivare, raga. Non l'ho sentito arrivare. Ho accato un rene col BNB. Ah, peccato. Non l'ho sentito, non l'ho sentito proprio. Si fa, raga, si fa, si fa. Bene, e adesso? Recomprate il Thompson. Ed è fatta. 5 round col Thompson in questo spazio enorme. Senza Jai. Sì, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Siete messi benissimo. Sì, è vero, è vero, è vero. Uff, santa madonna. No, zombie, stiamo guardando tutti. No, no, no. È ancora molto prima, lo so fermo, lo so fermo. Non vedo niente, non vedo niente, non vedo niente. Oddio, raga. Fai il giro, 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 fai il giro. Non ho ancora visto se siete morti, ma immagino. Sì, Simo, sì, Simo, è morto. Dai! Chi te l'ha detto? Se Zimbo adesso ha detto che sopravvivo, sopravviva. Killer è morto e siamo messi un po' maluccio. Tu cosa puoi vedere? Non venire qua, non venire qua, eh. Ecco, no, no, no. Il problema è che nessuno deve morire perché questi... Simo vengono da te, Simo vengono da te. No, mi è bloccato! No, raga, ma come siete morti? Eh, ci stiamo scontando.